Start, 2, 1, initial mission and liftoff! Spunto per farci una live una sera, ovviamente lasciate il commento sotto se volete magari che una sera lo facciamo perché a quanto ho visto, a quanto ho letto in giro potrebbe essere l'horror più spaventoso di quest'anno. Niente a che vedere con Rebirth che avevo portato qualche anno fa, quando era uscito, infatti gli sviluppatori mi hanno probabilmente in simpatia perché mi hanno anche mandato una scheda con delle indicazioni sul gioco. In sintesi, quello che posso dirvi è che ci sono degli elementi quali i codici delle gasseforte, insomma delle varie porte che vengono generate randomicamente a ogni partita, quindi non ci sono guide, non c'è possibilità di cercare online il codice di apertura di una porta. Siamo in un bunker e ci troveremo di fronte a porte da aprire o da rompere perché tutto quello che è di legno può essere distrutto. C'è questo discorso delle storie personalizzate che lascia spazio anche al workshop, ma noi iniziamo. La difficoltà consigliata è la normale. Ci sono tutti gli effetti, io attivo tutto e lo cominciamo così, a fareddo, senza troppi preamboli, che di preamboli ne ho già fatto qualcuno. E vediamo. Ovviamente in live sarà molto più improvvisato perché non saprò nemmeno io che cosa avrò di fronte, quindi non lo so, potrebbe essere divertente. Comunque, ribadisco, fatemi sapere sotto. Per sopravvivere a questa guerra ti serviranno due cose. La prima è un set di base di abilità, la seconda è la dannata forza di volontà di fare quello che è necessario. Posso insegnarti la prima, ma la seconda dipende da te. Tra l'altro questo, a differenza di tanti altri giochi, non avrà una forte componente sulla storia, come lo era stato Rebirth, ma sulla sopravvivenza. Seguiamo la linea della trincea. Entreremo in questo bunker, o bunker. Premi... Ah, la pistola abbiamo, eh. Molto bene. Ci sporgiamo, un po' come un Tarkov qualsiasi. La possibilità di prendere anche un badile. No, va bene. C'è un'impostazione interessante nel gioco che ci permette di rallentare il gioco qualora la grazie. la grafica dovesse calare, insomma, il gioco dovesse rallentare, in modo da bilanciare. Uh, l'apertura è come i primi Amnesia, Machine for Pigs o quello della casa, bellissimo. Ma sono tutti più o meno stati così, in realtà. Prendiamo... Quante punizioni... Ti ne ho premuto R per controllo A? Ok. Ah, non ne ho, bene. Avevo una pistola a scarica. La carichiamo. Molto bella, mi piace tantissimo sta cosa. Bella, bellissima questa. Mi piace tantissimo. Ma, scusate, io adesso prendo i proiettili. Ma, e se volessi caricarla? Ah, uno. Clicco ogni volta e lo mette. Bello. Già questo vale l'acquisto. Ah, ho finito già i colpi, ok. Beh, intanto ho tre colpi. Fatemi vedere se il prossimo è il colpo... Sì, il prossimo è il colpo che spalla. Andiamo. E se io tengo premuto... Ok, lo punto. Questo masso qui... Tengo premuto. Ok. Eh no, infatti. Infatti, come vi dicevo e come mi hanno segnalato anche gli sviluppatori, tutto quello che di Linux può rompere. Mentre invece ci sono altre cose da sapere, come le griglie di ventilazione vengono aperte tutte con la chiave inglese. Mi piacciono sempre tanto queste cose. Premi il control per accovacciarti. C'è dove non si patisce l'ambiente, ma ci si può interagire. In questo caso io mi metto anche qui e vedo se c'è qualcosa. Uh, altri proiettili. Bene. Speriamo di non dover sparare perché avere una revolver... Cazzarola. Quanti colpi ho? Mi ha tolto solo il colpo scarico. Ok. Vediamo se riesco a colpirlo. Bello! Questo l'ho mancato, ma... Ok, andiamo, 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 andiamo. Subito dei danni, ti è venuto il tab, ok, aspetta che prima chiudo la porta, la mano, ovviamente, e premo anche il pulsantino qui. Ok. Teniamo il premuto tab e vediamo... Oh, mi ha ferito una gamba. E non sono garibaldi. Ok, ho finito i colpi. Abbiamo, ok, appena ho raccolto un oggetto che può essere usato. Ok, prendi l'altro straccio, premio il tab per accedere. Io prendo un po' di roba. Ho premuto tab. Ok. Ok, li unisco insieme e mi diventa una cura, ok. Quando è equipaggiato, usa. Clicco. Tieni per un tocco il tasto destro. E poi premi, ok. Il movimento, sì, dicevo, quando saltavo così l'ho trovato un po' legnoso, ma non sto certo a guardare queste cose. Mi sono curato, al momento. Andiamo avanti. Ed entreremo in questo famigerato bunker, io presumo, perché qua è chiuso. E cacchio si vada qua. Perché qua non abbiamo via di uscita. Vediamo se con il seghetto riusciamo magari a fare qualcosa. Qui c'è qualcosa. No, è di là. E qui che bisogna andare. Solo che non riesco a capire. Ah, si passa sotto, ok. Sì, perché saltar sopra sarebbe stato iperlegnoso. Allora, vediamo, ci sono altre cose qui. Bombe a mano. Io prendo tutto. Premetto, il gioco non è così, eh. Il gioco diventerà terrificante andando avanti. Il casco. No, non gli faremo granché con quello. Dobbiamo prendere qualcosa. Ah, la bomba. La bomba, la bomba. Allora. Estrai. La spoletta. Via. L'effetto del fumo è veramente molto bello. Oh, io sono stato sicuro di qua, ma... Qua sotto c'è un letto. Ovviamente non è il caso, ma... Perché carico... Ok, sono tutti... Un colpo solo. Un colpo. Ce lo faremo bastare. Questo non si può. Ok, andiamo avanti. E qui? Ah, ancora? Ah no. Il gioco ci suggerisce che un colpo basta per far esplodere quello. Adesso non abbiamo più colpi davvero. Salto. Vado. Sì, sì. E mo? Il filo di ferro ci fa male. Mi sono perso qualcosa? No, ha lanciato il gas. Oh, cavoli. Non so se fosse previsto questo, ma non sto molto bene. No, era previsto. Metti questa. Usciremo da questo inferno. E all'inizio non fa pensare a un gioco... Horror, minimamente. Ed è per questo che poi magari lo approfondiremo in live. Sì, ovviamente, riceverò qualche messaggino sotto. Solo che, se noi siamo il protagonista di questa avventura, il mio socio lì non farà una bella fine, immagino. Va bene, siamo in caricamento. Vediamo che succede, dove ci troviamo. Ok. Siamo... Siamo qui. Ma non so dove stia andando io. Questa voragine qui. Che poi, Amnesia e Roberta, che è quello uscito qualche anno fa, faceva un uso un po' eccessivo di scene oniriche, che io non apprezzo mai molto. Ma era fortemente basato su accendi la candela, porta la candela, insomma, illumina bene l'ambiente. Però, appunto, queste visioni oniriche non mi piacevano. Eh, infatti, lo dicevamo. Lo dicevamo. Eh no, lo c'è. Ah, no, ancora arrivo. Ok, non sappiamo chi sia, ma penso sia un compagno di battaglia. Sembra essere tutto finito qui. Eh... Ce l'hanno trovato. Ecco appunto. Perché, come vi dicevo, dovremo affrontare le varie situazioni in diversi modi e soprattutto ci saranno elementi sovrannaturali, mostre e cose varie che sentiranno anche il rumore che noi faremo durante la nostra esplorazione del bunker. Quindi... sarà veramente tosto come gioco. E ovviamente è un gioco che va giocato con le cuffie di sera, con tutto buio. Insomma, questo è un classico cliché che... Consiglio per i giochi horror di questo tipo. Intanto siamo a letto, siamo tutti fasciati. E approssimativamente si chiama debunker, quindi nel bunker. Non abbiamo pistola, non abbiamo niente, però siamo qui. Vediamo un po' cosa troviamo. Adottare gli oggetti T? Oppure, tenendo premuto questo, con la rotellina, ma sono più comodo con tip. È la verità, eh? Vabbè, comunque, le risorse mediche qui non ci sono. Non c'è niente. Avvicinarlo, allontanarlo. Sì, io ho giocato My Summer Car, adesso, giovane. Un libro che non serve a niente. Progressi salvati. Questa è la lampada dove potremo salvare. Bisogna salvare spesso. Me l'hanno detto anche gli sviluppatori, perché si muove spesso. Tutte le note che possono essere ok. Causa dell'amnesia. Dopo gli eventi del 9 luglio, è stato necessario sottoporre il soldato Clement a trattamenti medici. I suoi effetti personali sono conservati nella stanza degli armadietti. Il paziente si trova in un debole stato comatoso, risponde agli stimoli, ma solo per brevi periodi di tempo. L'unica volta che si è svegliato, ha dichiarato di non ricordare i recenti eventi. Sembrava avesse problemi anche a ricordare il suo stesso nome. Probabilmente a causa del grave trauma cranico. Continueremo a tenerlo sotto osservazione. Se entra una settimana il suo stato non sarà migliorato, suggerisco il trasferimento al Sunderdien per ulteriori accertamenti neurologici. Dottor Giosinki. Perfetto. Quindi dobbiamo andare a prendere le nostre cose, immagino. Questo è... Ok. Vabbè, salva, salva. Credo sia quello il save. Perché qua c'è un telegrafo, non so. Comunque, andiamo. No, scusate che si apre solo da una parte. I jumpers. Non abbiamo torce, però intanto qui è abbastanza illuminato. Ok, credo siamo arrivati. Tirare fuori, mettere l'altro... Ok, quello che ci serviva. Bellino! Tieni premuto F per ricaricare la torce, hanno attenzione a non fare troppo rumore. Bellissimo! E' tipo... Qual era l'altro gioco? Era... Metaro. Che si caricava, mi pare. Adesso vediamo anche l'altra notizia. Diario di Clement. Sono in uno stato di agonia. Paralizzo il mio corpo, impregionando la mia mente. Fa sanguinare la mia anima. Che cosa ho fatto? Che cosa? Che cosa? In mensa stanno servendo il pranzo. Il solo pensiero di mangiare mi disgusta. Ok, allora, intanto qui le catene serve il tronchese per tagliarle. Questa è un'altra delle info che vi servirà a sapere. Una foto. Tutte le foto che ricoprivi. E' un po' scomoda sta cosa. Comunque, questo è una cosa terrificante. Andiamo ai cassetti se c'è qualcosa. Un documento. Ovviamente non vi te dirò, però... E' brutta sta cosa che non me le apre subito. L'accelerazione in multiple cavità. Sì, me le apre subito in realtà, ma avrei preferito qualcosa dove me lo apre già solo quello. Tutte le cose le rotte. Ok, non ti ho trovato qualcuno in sintesi. Ma adesso vorrei spostare la sedia perché voglio aprire i cassetti in santa pace. Ok, qua è la porta. Che è aperta. Qua non c'è altro. Oh merda. Ho preso anche del cherosene. Cos'è? Carbodorante, sì. Qua. E' tutto chiuso. In compenso... Qui c'è un buco. Ma non ci possiamo entrare, credo. No, però c'è una striscia di sangue che va di qua. Fatemi mettere via la torcia perché non vorrei mai che... Cosa ti hanno fatto? Siamo attrappolati qui sotto. Siamo attrappolati qui sotto. Sono fuggiti e facevano assaltare l'uscita nelle loro spalle. Mi dà la prima e la pistola. devi riaprire il passaggio con l'esplosivo. C'è della dinamite nell'arsenale e la maniglia per farla ritornare da qualche parte, giù agli scavi. Trova queste cose e forse... Ci sono delle munizioni? Dove? Ma non so dove sono le munizioni? Si, ma dove sono le munizioni? che non ho capito. Eh, me l'ha detto voi avete anche detto, ma sono nelle ripostiglie, ok? Ok, eccola lì. Ok, me l'aveva detto. Ok, ok, da quei buchi arriva qualcuno e questa sarà la belva che ci darà fastidio per tutta l'avventura, io immagino. Ok. E dovremmo fare attenzione a muoverci silenziosamente e non far casino, cominciando dalla torcia. Ok, il gioco vuole che io mi metta la torcia. Ma non lo farò. Ma se io sparassi al lucchetto... Proviamo. No, non è... Ho sparato forse quello sbagliato, ma credo non funzioni così. E invece sì. Questo è... Porca merda, mi sta venendo la pelle d'oca. Mamma mia, ragazzi, c'è... Batista. E' un foglio, che mi leggo subito. Quando vi occupate dei soldati receduti, per favore controllate la lettera delle loro piastrine, che verifichai che non ci siano messaggi, simboli o codici nelle amadiati. Vanno rimosse e pulite prima che vengano archiviate. Ok. Vorrei salvare, però... Questo mi ricorda Resident Evil. E pare che addirittura possa far più paura di quello. Allora, intanto... Vorrei capire come fare il save. Sono basso io, semplicemente messo in alto il armadietto. Perfetto. Vediamo qua cosa c'è. Un altro foglio. Ce lo leggiamo. Ratti. Non è affatto migliorato. Deve essere messo in alto una nuova regola. I soldati devono essere bruciati. Va bene, sono d'accordo. Qui non è niente. Qua non è niente. Non c'è niente. Non caricare. Allora, in pratica, noi siamo arrivati da qui, credo. E si può andare anche di qua. C'è una doppia porta qua. Generatore. Ecco un'altra cosa. Il generatore va alimentato. Ed è un'altra cosa interessante. Perché per dare energia alla base bisogna mettere il carburante. Carburante estremamente inframabile. Le mani accendono alcun tipo di fiamma. Sparare con l'armina a fuoco. Ok. Considerare assolutamente in contenitore. Ok. Dovremmo trovare. Queste sono tutte cose che non servono a niente. Qua c'è del carburante. Qua c'è qualcosa. Cos'è uno straccio? Sì. Fare una moto. Però tecnicamente. Pozionare la generatore riempiendolo. Ok. Io ho questo. Quindi lo equipaggio. Ok. Qua c'è la leva. Ho preso un'altra piastrina. Ma vorrei capire dove va dentro il carburante. Anche un orologio. Ricordo esaminare la piastrina. Se non farai. Non noterai il codice. Sì. Perché vengono distribuiti a caso gli oggetti. Quindi. Ah. Ok. Non me la raccoglie. Perché devo esaminare. Ok. 5 e 4. È fatto per non perdere la roba e frustrare il giocatore. Ok. 5 e 4 e 1 e 7. Perfetto. No. Va dentro qui. Ok. Ok. Adesso. A posto già. Ok. Via. Cosa sto facendo. Sto mettendo un cronometro. No. Mettilo via. Mettilo via. Ok. Questo è il livello di quanto è pieno. E abbiamo alimentato la base. E tecnicamente ora dovremmo andare a usare il codice. Aspetta. Luci sempre accese. Ok. Quindi. La stranza le odia. Quindi praticamente. Il mostro. Odia la luce. Ma qua possiamo accendere in qualche modo le luci. Cos'era? 5 e 4 e 1 e 7. Sì. E qua si va avanti. E qua inizia la nostra avventura nel bunker. Vediamo un po'. Ok. Di là c'è l'uscita. Ma noi vogliamo dare davvero l'uscita. L'uscita non c'è perché l'hanno fatta esplodere. Quindi tecnicamente. No. Qua spegniamo. E l'ho appena accesa giustamente. Però qui. Vorrei trovare qualcosa da, magari per salvare la partita. Manutenzione headquarter. Schubert. E' avutato la... Oh oh. No. Più che altro sto qua ha una granata qui. E' una granata questa. Quindi dovremmo trovare il modo di tagliare quella corda. Perché c'è una trappola. Fai prenderla benza. Cazzo. Non devo far casino. Non devo far casino. Attenzione di qua. Mamma mia. E' una trappola. Ho visto la corda all'ultimo. Non mi prende... Ah si è ingerata abbastanza. Ok. Qua c'è un poveraccio che ha fatto il mio stesso errore. Questa è la... Zona di emergenza. E qua dentro sicuramente c'è qualcosa. Hai subito dei danni. Fai attenzione. Sta lasciando dentro di te una scena di sangue. Bene. E qua abbiamo un po' a memoria. Vediamo. Dove è il nostro vino. Questa è una cosa irrilevante. Vediamo se abbiamo modo di stracci e carne. Utile per attivare i roditori. No. Non abbiamo purtroppo niente. Ecco. Per entrare dobbiamo... Trovare una chiave inglese. Questo è un blocco d'emergenza che si chiude quando va in allarme il bunker. Abbiamo ancora dei colpi, vero? No. Sembra dove hanno presi due, ma... Ok. Mamma mia. No. Con il mio senso dell'orientamento siamo praticamente tornati indieta. Sì. Decisamente sì. E' saltato il generatore. Nel senso che qua non mi lascia... Eh no. Mi lascia salvare. Poi vabbè c'è il checkpoint di suo, ma... Dovevo trovare il modo. Mi sono anche perso, tra l'altro. Quindi non ho mappe. Non ho neanche colpi per far saltare quella... L'amministrazione ci siamo andati prima. No, è chiuso. Mi sono perso. No, qua è dove siamo arrivati prima. Però... No. Ma non c'era questo prima. La spingo via. Ok. Ok. Apriamo la porta. Infermeria. Amministrazione. Eccola la lampada. Con questa si salva, non è a quella di prima. Perfetto. Abbiamo salvato. In questa casa per conservare oggetti. Perfetto. Direi che questo è il momento giusto per... E tra l'altro eravamo qua anche prima. Perché siamo andati giù al generatore. Ma il generatore ha già finito il carburante. Empty. È vero. L'ha già finito. Niente. Lo ricaricherò e... Vi vedremo. Intanto qua c'è dell'altro. Vediamo anche cosa dice questo. La bestiaccia caccia nell'oscurità. La luce è la nostra unica possibilità. Il generatore è la nostra sola speranza. Sì, infatti. Guardatevi le spalle. Ok, bisogna stare alla luce. Il titolo mi sembra particolarmente intrigante. Mi piace decisamente di più di quello che è stato Rebirth. Si avvicina più a Machine for the Pigs. O comunque il primissimo che era uscito. Descent, forse si chiamava. Comunque ringrazio ancora lo sviluppatore per avermi fatto vedere. Ha permesso di giocare e darmi qualche consiglio riguardo al gioco. Questa è la mappa. Che possiamo andare a vedere. Ma credo che non potremo accedervi dall'inventario. Credo. Infatti no, però abbiamo i codici. Dicevo ringrazio lo sviluppatore. Fatemi sapere se vi siete magari interessati a vedere una live una sera. Una serata horror. L'ho detto all'inizio in modo che magari tanti hanno già smesso di vedere il video. Ma fatemi sapere. La giocheremo tutto a volume alto. La mia voce è bassa. Insomma, ci guadremo ogni singolo scricchiolio di questo bunker. Un saluto. E attendo anche il vostro parere sul gioco. Alla prossima. E ciao ciao.